Questo video riguarda i migliori tre valvole termostatiche smart. Il vincitore della qualità è il QMI Valvole. Supporta il controllo remoto app tramite smartphone, a mani libere insieme al controllo vocale tramite Alexa e l'assistente Google dopo connessione riuscita. La sua valvola per l'app Tuya barra Smart Life basata su un gateway wireless Tuya ZigBee. 5 più 2 impostazioni a settimana. È possibile impostare fino a 10 fasi di temperatura ogni giorno. Il valore predefinito di fabbrica è 5. Supporta la modalità manuale, la modalità temporanea e manuale, la modalità vacanza, il rilevamento della finestra aperta, la temperatura offset, la temperatura eco e confortevole, il blocco bambini, l'antigelo modalità, modalità di arresto del riscaldamento, protezione anticalcificazione. Una wireless ZigBee è un must-have che collega molti altri prodotti intelligenti ZigBee alla valvola ed esegue tutta la connessione dei tuoi dispositivi intelligenti. Basta aggiungere il gateway all'app, quindi aggiungere l'attuatore del radiatore al gateway nell'app Smart Life. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Netatmo valvola termostatica. Con l'EcoBonus risparmi fino al 65%. Verifica se possiedi i requisiti necessari sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Le valvole termostatiche intelligenti aggiuntive funziona solo con il termostato intelligente Netatmo e il Starter Pack, valvole termostatiche intelligenti. La funzione AutoAdapti integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell'abitazione, per garantire la temperatura desiderata. Comanda a distanza il tuo valvole termostatiche intelligenti aggiuntive da smartphone, tablet o computer regalati, la libertà del comando vocale con compatibilità Amazon Alexa, Apple HomeKit e assistente Google. Le valvole termostatiche intelligenti Netatmo sono compatibili con il 90% dei termosifoni ad acqua calda, grazie agli adattatori in dotazione. Il vincitore del premio è il Bosch valvola elettronica. La valvola elettronica ETRV Bosch per termosifoni consente, in abbinamento al termostato Smart Easy Control, di regolare la temperatura della stanza in cui è installata anche da remoto tramite app dedicata. Valvola termostatica per radiatori da abbinare al termostato Smart Easy Control Bosch. La temperatura può essere impostata e programmata sia da remoto, tramite app Easy Control, che manualmente, utilizzando i comandi sulla valvola. La funzione di blocco tramite app impedisce che la temperatura impostata venga modificata accidentalmente. Funzione di calibrazione della lettura della temperatura, per garantire sempre il massimo comfort anche su radiatori in nicchia o di notevole altezza. Da abbinare al termostato Smart Easy Control Bosch per la regolazione della temperatura della singola stanza in cui è installata. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.